Allora, dottor Ciccarello, cosa fa e come è strutturata? Entriamo subito nel cuore del tema. Innanzitutto grazie per questa domanda, anche se sono certo che la stragrande maggioranza di chi ci sta ascoltando adesso conosce ed utilizza già i servizi Regold ed è già libera dalla burocrazia e del rischio adesso collegata. La risposta sta in quello che è il nostro payoff. Regold è il numero uno dei servizi per agenti immobiliari. Perché siamo i numeri uno? Perché siamo l'unica società di servizi in Italia, servizi per agenti immobiliari, ad avere 12 servizi specifici all'attivo. Non solo, è 11 anni che siamo sul campo con una sola missione, dire agli agenti immobiliari che la burocrazia non è la loro professione. La professione che hanno scelto è la professione che tanto amano e di liberarsi da questo fardello. Ogni agente immobiliare che chiama in Regold può contare sul supporto di 28 specialisti della materia, divisi tra 6 specialist, tracker specialist, production specialist e IT e avere tutte le risposte ai problemi dati dalla burocrazia. Attualmente sono più di 7 mila le agenzie che ci contattano giornalmente, che hanno scelto di rimanere al passo con i tempi, di liberarsi della burocrazia e dedicarsi pienamente al loro lavoro. Possiamo fare qualche esempio così da rendere più immediata la comprensione per chi non vi conoscesse già? Assolutamente sì, non ci occupiamo di quelle che sono le normative, a me piace definirle fardello, per gli agenti immobiliari come per esempio l'antiriciclaggio, normativa molto complessa ed insidiosa. Purtroppo molte volte mascherata da semplice, dove sembra immediato dover compilare un modulo e finisce tutto lì. No, ci sono moltissime responsabilità collegate ai moduli che si compilano e come si compilano per la gente immobiliare. Non solo, può diventare un insidio a registrare correttamente una locazione oppure un preliminare avendo un F24 corretto e tutta la documentazione correlata. Non da ultimo le normative cambiano, cambiano continuamente, sono in continua evoluzione. Di conseguenza rimanere aggiornati a volte è difficile della partita. Ecco, Regold si premura che tutti coloro scelgano di dedicarsi realmente a fare professionisti immobiliari, siano liberi da questo fardello e possano lavorare in sicurezza. Quindi per intenderci, voi siglate accordi con le reti, quindi a monte o con le singole agenzie? Con le singole agenzie, ma mi permetto anche di aggiungere con i singoli agenti immobiliari. Andiamo laddove c'è una perdita di tempo, perché la burocrazia è un'attività sì indispensabile e necessaria, ma che non porta un solo euro nella tasca degli agenti immobiliari. Uno studio dell'anno scorso, adesso le 24 ore, dice che addirittura il tempo perso da un professionista immobiliare è quantificabile in una settimana al mese, perso in burocrazie, consulenze, spostamenti per queste ultime. Bene, Regold si ripropone di restituire questo tempo e farlo utilizzare nella maniera più proficua agli agenti immobiliari. Quindi per i loro clienti, per creare nuove relazioni, nuovi affari e nuove provvigioni. In modo quindi che il professionista possa concentrarsi sulla consulenza, che poi è il valore giunto anche rispetto ai servizi che si intermediano. Assolutamente sì, Regold in questo senso si propone, essendo da 11 anni sul campo, come l'unico referente per un'agenzia immobiliare. All'interno del nostro pacchetto servizi, un agente immobiliare può rispondere a tutte le sue esigenze, anticipare tutte quelle che sono le eventuali problematiche che la burocrazia può creare e perdite di tempo. In noi trova sempre una risposta. Possiamo dire quindi quali sono le professionalità principali della nostra società? Noi abbiamo fatto una scelta molto chiara, che è quella di essere verticali e specializzati sul settore immobiliare, quindi sugli agenti immobiliari. E la nostra clientela si compone di questi, nella totalità. Qualcosa su cui state lavorando di nuovo, nuovi progetti, iniziative? Regold è sempre una fucina, nel senso che siamo sempre all'opera per dare nuove soluzioni, nuove soluzioni anche intravedendo quali saranno le nuove sfide per chi sceglie questa professione o per chi l'ha già scelta e come ho detto prima si trova a un certo punto della sua carriera in balia dei cambiamenti normativi e delle complicazioni che la burocrazia porta. Posso citarvi gli ultimi arrivati in Casa Regold. Dopo anni nel digitalizzare tutti quelli che sono i processi, digitalizziamo anche la consulenza. Quindi abbiamo lanciato servizio di RC professionale, servizio di sicurezza sul lavoro e di prima assistenza legale. Questi ultimi servizi hanno avuto un fortissimo riscontro da parte appunto degli agenti mobiliari, dei nostri clienti andando ulteriormente a semplificare quella che era una problematica legata al tempo speso anche per ottenere queste consulenze. In tutti i servizi che Regold presta ai propri clienti la parola principale è responsabilità. Ci mettiamo sempre la faccia e ci prendiamo la responsabilità per i nostri clienti, per gli agenti immobiliari. La consulenza riguarda anche l'ambito normativo. Pensiamo ad esempio al settore dei bonus che cambiano continuamente e potrebbero mandare in confusione gli agenti immobiliari che magari vengono interrogati come primo soggetto dai potenziali acquirenti. Più specificatamente sulle normative. Noi prestiamo moltissime ore di formazione non solo agli agenti immobiliari titolari, ma ci occupiamo di formare quelli che sono i loro collaboratori, i loro colleghi, in modo che in caso di anche un controllo da parte degli organi accertatori che purtroppo avvengono e ne avvengono, ne abbiamo quotidiana testimonianza, siano sempre pronti a rispondere correttamente a ciò che gli viene chiesto, con una garanzia che riusciamo a dare ai nostri clienti da oltre 11 anni, di non uscire mai da questi controlli con un solo centesimo di multa. E non è poco. E non è poco. Grazie mille Daniele Ceccarello, sei special. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a tutti.